Anche perché stanno attivati cinese... Vai siamo in REC ragazzi! Si va! Perché stanno attivati? Si va a fare cinese, perché stanno attivati? Perché stanno attivati cinese? Si va, si va! Si va, si va! Perché stanno attivati cinese e non dici più che fai... Non dici più che fai... Non dici più che fai...